Volevo ringraziare intanto Margarita Laber e Mariani per la presentazione e per l'organizzata in questo percorso che mi entusiasma e mi entusiasma anche gli altri poeti coinvolti, quindi ci atteniamo insomma a una ricca esperienza. Donna Hanno ragione loro, hanno ragione, dovresti arrenderti e stare al gioco, fottere e farti fottere, piegarti alla voce del padrone. Hanno ragione, accadrà ancora, la scudisciata in fronte, l'odore rancido del potere che divora. Hanno ragione che questa è l'ora per darsi il pasto, piegarsi al gioco, offrirsi al maglio che tritura. Dimostrano, la stoffa non ti manca, hanno ragione, è un gioco elementare. Aizzare contro un uomo un cane, prenderlo a calci e a morsi, lasciarlo agonizzare nelle sue stesse feci. Tenerlo al guinzaglio come un animale, nell'aria che trema di calore, sgozzarlo come un maiale, lasciarlo marcire tra i rifiuti come una puttana di colore. Hanno ragione loro che basta poco, hanno ragione, chiunque lo può fare. Hanno ragione loro, questo da sempre, a nulla vale il cuore puro, la parola scudo della morte. Hanno ragione, firma la resa, lascia che cresca il pelo tuo sceno, alza la testa, a tanto caro prezzo venghi, dimostra che tu non sei da me. Questo è un testo che viene da Canti Ostili, di questa raccolta, mi parlava anche Margherita, questa ultima raccolta che è concepita un po' come un concept, nel senso che i testi sono inanellati, intorno a questo elemento, sì, dell'ostilità percepita, non necessariamente la guerra, ma la estilità come elemento diffuso, come dire, come elemento diffuso della nostra esperienza contemporanea. E sono canti ostili nei quali appunto trova a posto, accanto a questo testo dogma, che in un certo senso è un po' il manifesto del libro, in cui trova a posto questo poemetto che si chiama Sarajevo Tapes, di cui parlava sempre Margherita, che è un poemetto di viaggio, nel senso che è una racconto definitiva, è il precipitato di un'esperienza, che è un viaggio da Venezia a Sarajevo, andate a ritorno, è anche una permanenza a Sarajevo. E che è un poemetto che inoltre cerca anche di orchestrare una specie di interazione con altri modi di organizzare l'esperienza e di renderla, diciamo, artisticamente, nel senso che già l'idea della registrazione, del campionamento, della traccia che c'è nel titolo e poi anche un certo insieme di tecniche che vengono utilizzate presentano molto del dialogo con, in certi casi, uno sguardo vettorico, in altri installativo, in altri voli, in altri casi anche a scultore. Ma al centro, questo è perché appunto credo che la poesia si nutra in definitiva di altro, si nutra di esperienza, anche se alcuni dicono che siamo nell'epoca della morte dell'esperienza o dell'inesperienza e non si alimenta soltanto di se stessa. Ma volevo leggervi qualche brano da Canti Ostili. Ogni testo è marcato dall'ora e dall'uogo, inizio dal 7, per Mostar, ora 16. Mi dicono che i tuoi occhi sono vuoti, mi dicono che i tuoi occhi sono stupefatti. Segui lo sventolio dei drappi, il rosso, il bianco e il blu, distesi tra le rocce e sulle case, in costruzione a fianco della strada. Mi dicono che i tuoi occhi non vedono a prati, mi dicono che i tuoi occhi si incantano. Conta, d'una d'uno, pare le vettive di bianchi, le bianche distese da ogni lato, l'abbraccio del paesaggio fitto di cipi, giallo di luce. Mi dicono che i tuoi occhi si dissipano, mi dicono che i tuoi occhi, i tuoi occhi. A seguire le cave di sabbia sul fiume, dopo Mostar, i mucchi di sabbia e di terra scavati nella luce, senza ombra, per ogni gruppo di case una distesa di pietre bianche, erette, immobili. 8. Canton Sarajevo, ore 19. Quando la valle si apre tra fine di discarica, è in mezzo più verde del verde il fiume, e i molti bagnanti nell'acqua come i sabbiati nel verde. Le reti di attrettina pesca ad asciugare, sui ponti lindi, nuovi, tra le lapidi, acili e bianche, come i minareti dritti nell'azzurro, accuminati. Poi il verde si fittisce di chioschi, la stella rossa dell'Ainiche, campeggia sulla conca del canton Sarajevo. Ovunque meno rocce e nessun animale è disperso sui prati. Ad ogni istante si crede di vedere un drecce, e già ci si sorprende invece a contare i fori sulle facciate, e già si vorrebbe scendere, a toccare quel dito, a mettere mano a ciò che manca. 9, 18 luglio, Sarajevo, ora 12, contenitore. Operosa dividi le lacrime, spartisci il frutto degli occhi, tra piccoli flaconi di vetro. Operosa catalua i pianti, conserva il profitto dei giorni al centro di parallelepibbe di Bianchi. 11, 19 luglio, Sarajevo, miliaca, ore 10. Aussterno. Prendi un'arancia, prendi un'altra, allinea 3, 6, 5 aranci sul parapetto, 3, 6, 5 macchie sul bordo del fiume. Prendi un'arancia, sbucciala a morsi, scopri nel bianco sotto la pelle, macchia di sangue la linea dei denti. Prendi un'arancia, apriti un bar, posa la testa sulla pietra del muro, 3, 6, 5 arance, dense di luce. Poi il testo prosegue, prosegue questo avvicinamento, anche a vari luoghi, prima a Sarajevo e poi all'interno, a vari luoghi abitati, riutilizzati, in questo caso poi riutilizzati anche spesso per delle installazioni, perché si è trovato in un contesto determinale che si radevolgerà. e arrivò all'ultima sequenza, alle ultime due sequenze con cui si conclude Sarajevo e Teglius. 18, che sono sequenze delle attorno, cioè del ritorno in nave. 23 luglio, mare Adriatico, vore 2, battono i colpi, in cofano, si annunciano l'arunzio degli areatori, attendono nelle pieghe, premono dai condotti, pulsano nei cristalli liquidi, si insinuano, lambiscono gli orvi della mente, strisciano, spittiscono nel capo delle orecchie, battono colpi, aggadano nel metro delle ire, riserpeggiano, slalbero, gli orifizi di latano. 25 luglio, Venezia, ore 20, battono, ma non sono topi, si insinuano, ma non sono verbi, strisciano, ma non sono uomini, attendono, ma non sono spie, battono, ma non sono allarmi, lambiscono, ma non sono serpi, dilatano, ma non sono i morti.